Mi chiamo Sara Ricaldone, ho 26 anni e abito in frazione Cagliera di Goito. Nella vita faccio la vice responsabile di punto vendita. Ho deciso di candidarmi nella lista di Pietro Chaventi perché vorrei riscoprire questo paese ormai dimenticato, cercando di valorizzare ciò che di bello ha. Immagino per tutti noi un'amministrazione sincera, concreta, trasparente nei confronti del cittadino. Grazie.